benvenuti in un nuovo video di quadricottero news stiamo guardando il drone show che è stato fatto domenica scorsa nelle filippine precisamente nella città di marichina per la cerimonia di chiusura della 63esima edizione di giochi sportivi nazionali come stiamo vedendo sono stati impiegati un centinaio di droni luminosi per realizzare il drone show che è sempre molto spettacolare perché rappresenta in cielo delle figure usa il cielo come un gigantesco schermo virtuale dove ogni drone è una specie di pixel di questo schermo naturalmente non sono droni pilotati uno a uno manualmente ma vengono condotti uno a uno da un computer grazie a software specializzati ogni drone è dotato di gps quindi trasmette le sue coordinate in tempo reale al computer gestore che a sua volta trasmette i segnali di pilotaggio e anche i colori che deve assumere ogni drone come stiamo vedendo il drone show è un'alternativa altamente spettacolare coinvolgente che può sostituire i fuochi di artificio dal punto di vista tecnico e tutto è andato bene non c'è stato nessun incidente ma c'è stato un grave errore questa è la bandiera delle filippine tra l'altro guardate che bel effetto viene fatto viene simulato l'effetto della bandiera che si muove al vento l'esecuzione tecnica è perfetta vedete ci sono i simboli della bandiera e i colori poi droni hanno formato questa figura vedete un atleta con la fiaccola olimpica con la fiamma vedete anche il movimento vi assicuro che guardarla dal vivo è veramente emozionante anche perché generalmente i droni show sono accompagnati da musica anche questo drone show è stato accompagnato da musica che qua non sentiamo però la musica c'era poi è stata formata questa scritta palaro e poi il simbolo della città di marichina che è una scarpa perché marichina è la capitale delle scarpe per quanto riguarda le filippine eccola qua scarpa con tacco rossa dopo il drone show è stato fatto uno spettacolo di fuochi d'artificio quindi possiamo direttamente vedere le differenze tra il drone show e fuochi d'artificio sono due spettacoli diversi fuochi d'artificio hanno più impatto ambientale per via del rumore dei fumi e via dicendo il rumore dello scoppio dei fuochi d'artificio spaventa gli animali però è coinvolgente per tante persone di sicuro un drone show è più eco sostenibile dei fuochi d'artificio voi quali preferite comunque qual è stato il grave errore delle drone show è stato questo questa è la bandiera delle filippine vediamo però che c'è il rosso sulla parte superiore invece di essere sulla parte inferiore bandiera invertita questa bandiera viene utilizzata quando è lo stato delle filippine è in guerra in tempo di pace la bandiera è quella sopra con il blu in alto in tempo di guerra il blu è in basso e il rosso è in alto può sembrare poca cosa però nelle filippine ha creato tanto imbarazzo e irritazione anche da parte del governo che sull'onda del disappunto ha anche annunciato azioni legali la società che ha organizzato il drone show ha chiesto scusa giustificando l'errore con il fatto che i giorni precedenti non ha potuto effettuare le prove generali per cattivo tempo in effetti in questo periodo nelle filippine ci sono i monsoni e in questi giorni nei giorni in cui c'è stato l'evento ha sempre fatto brutto tempo inoltre ha anche detto che nei giorni precedenti c'erano continue interferenze radio e che è stato un errore non voluto chiedendo nuovamente scusa un errore che sta facendo il giro del mondo proprio per la particolarità della bandiera rovesciata che indica lo stato di guerra qualcuno potrebbe anche pensare che è stato fatto apposta per avere visibilità però viste le reazioni ufficiali del governo questa società nei confronti del governo filippino secondo me si è bruciata staremo a vedere nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione vi invito ad iscrivervi al canale se non avete ancora fatto anche al nuovo canale telegram che ho aperto ieri fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda fatemi sapere se preferite i drone show oppure i fuochi artificio e vi saluto grazie per l'attenzione ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news ciao a tutti